8 mesi di lavoro alla guida dell'ospedale Luigi Curto di Polla e del distretto sanitario Sala Consilina Polla. Il direttore sanitario Pasquale Vastola, nei giorni scorsi, in occasione della presentazione del nuovo piano di emergenza territoriale, ha anche presentato ai primi cittadini il bilancio dei primi 8 mesi alla guida del servizio sanitario territoriale. Un bilancio in cui è stato elencato cosa è stato fatto, cosa non si è riusciti a fare e cosa si sta provvedendo a realizzare. Partendo dalla realizzazione di un'area contumaciale presso il pronto soccorso dell'ospedale Curto, necessaria soprattutto vista la diffusione del Covid, con un investimento pari a circa 30.000 euro, Vastola ha anche parlato di quanto fatto per la gestione della pandemia, ricordando come sia stato disattivato il centro vaccinale all'interno dell'ospedale di Polla per utenti non a rischio, al fine di evitare possibili casi di contagio all'interno del presidio ospedaliero. Resta attivo il centro vaccini per gli utenti a rischio e che pertanto necessitano di immediata assistenza essendo soggetti fragili. Vista la chiusura del centro all'interno dell'ospedale è stato attivato un centro vaccinale di riferimento presso il centro polifunzionale di Polla. Sono inoltre stati attivati due centri vaccinali estemporanei per i comuni di Petina e San Rufo per gli adulti e a Caggiano e Polla centri vaccinali pediatrici. Tra le azioni messe in campo sotto la direzione Vastola in questi primi otto mesi è stata effettuata una riqualificazione delle attività del pronto soccorso effettuando la selezione dei medici che possono operare all'interno dell'unità operativa. Attraverso un'azione di riprogrammazione anche dei turni il dottor Pasquale Vastola ha evidenziato come si è riuscita ad ottenere un risparmio di circa 99.000 euro riducendo il ricorso alle turnazioni in Alpi ossia dell'attività libero professionale intramuraria fondi che come annunciato dal direttore sanitario saranno utilizzati per l'acquisto di nuove apparecchiature al servizio dell'ospedale. A ciò si aggiunge la riattivazione della camera a pressione negativa che pare fosse rimasta inutilizzata. La camera a pressione negativa è un'area di grandissima importanza soprattutto fondamentale in questi anni di pandemia tutela ad esempio dei pazienti dializzati. L'organizzazione dell'attività libero professionale intramenia che può essere effettuata presso l'ospedale di Polla solo il sabato mentre nella settimana visite e controlli da parte dei medici saranno riservate alle persone che necessitano di usufruire del servizio sanitario pubblico. Sono inoltre numerose le prestazioni assistenziali attivate e di servizi a favore anche dell'utente esterno. Una serie di azioni volte a migliorare il servizio sanitario nel Vallo di Diano e soprattutto il ricorso alle cure mediche e ai servizi ospedalieri distrettuali delle comunità di riferimento.